Ciao, creatura. Io sono Eccate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Kusai e S.M.A. Allora, questo è un video totalmente chiacchieriggio, magari posso fare qualche suono, magari anche no, visto che la mia voce ti piace tantissimo, così com'è, non è che sono senza modestia, è perché dico in base a quello che tu mi dici, creatura, io leggo i commenti e mi dici, mi piace tantissimo il tuo whispering, anche senza suoni, bla bla bla, così è, oggettivamente. Questo pezzo dove mi tiro sulle maniche l'ho lasciato perché a me il suono della stoppa delle camicie piace tantissimo, quanto mi piace il suono delle camicie, quanto mi sto prendendo bene con le camicie. Qua possiamo parlare di tantissime cose e posso passare da un discorso all'altro, così, come se nulla fosse, perché è la tipologia di video che voglio fare oggi, questa sera mi fa così. Come va a te, tutto a posto? Allora, ti racconterò di cose random, tanto per non farti pensare a nulla, non farti pensare ai tuoi problemi, pensa un po' ai cavoli miei, che va bene così, però stasera va bene, lo so che di solito non mi piace raccontare gli affari miei, anche se in realtà spesso mi vengono in mente degli aneddoti, delle cose che riguardano me e te le racconto, però il più delle volte mi vengono in mente cose che non posso raccontare, perché o non è un discorso proprio che si può fare... Oddio, c'è libertà di parola, sì, però c'è sempre qualcuno che potrebbe rompere le scatole, qualcuno che potrebbe prenderla a male, o cose che non si possono dire per motivi legali, diciamo così, oppure riguardano anche altre persone che magari non hanno il piacere di far sapere i fatti loro in piazza, ok, diciamo in piazza per dire il web, quindi un sacco di cose non posso raccontare della mia vita, cose veramente divertenti, interessanti, però vabbè, però se sei mio amico le sai già, sicuramente le ho già raccontate, o forse no, però i miei amici sono privilegiati ovviamente, perché le racconto a loro in modo privato, e quindi la stanno lì, i veri amici, eh, non facciamo frecciatine, allora, allora, sì, come vedi è lo stesso make-up, lo stesso vestito, lo stesso, la stessa, stesse capelle, l'acconciatura, del video di martedì scorso, perché è il video che ho fatto dopo, l'ho fatto lo stesso giorno, quindi posso parlare del mio make-up, allora oggi ho utilizzato, faremo di così futili, dopo ti racconto un'altra cosa, ho utilizzato un, qua, nella parte qua, verso il naso, nella parte centrale, del viso, un verde chiaro, mischiato con del giallo, perché volevo che fosse una specie di verde acido, però, non avendolo nella palette, l'ho creato io, insomma, con il giallo e il verde chiaro, e mi piace molto come è uscito, e poi ho usato azzurro, un azzurro quello che avevo, un azzurro un po' perlato, e poi volevo viola, però è tanto scuro quel viola lì, e non sembra proprio viola, è un viola, un po' anche quello perlato, ma molto molto scuro, e quindi, questo è l'effetto, ma mi piace, mi piace molto, è molto particolare, e poi, ho usato, un rossetto, per, per fare, tipo, il blush, ma ho uscito questa cosa qua, ma a me piace, è cute, mi piace, sì, molto cute, che poi non ho fatto solo le gote, ma l'ho suonata super di qua, ho fatto, proprio, ispirazione, così, artistica, ho dato proprio libero sfogo alla mia creatività, e niente, è fortuna che si può, almeno quello, allora, ti racconto, ti racconto di questo gioco, videogioco, quale sto giocando in questo periodo, che si chiama Heroes of the Storm, no, 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 non c'ho fatto l'ossessione, no, l'ossessione no, però mi ha preso parecchio, devo dire, perché, oltre a poterci giocare gratuitamente, non è un placement, mi fa solo di parlarne, perché magari, non so, qualcuno di voi ci gioca e ci può stare insieme, ci gioco gratuitamente con i miei amici multiplayer online, e a me piace questa cosa, perché è una condivisione maggiore, che posso fare con i miei amici, peccato che non ci sia Andremur, mi manchi tanto, mi manca giocare con te, a uccidere gli zombie, a fare un wayside, un'altra cosa, no, wayside, vabbè, diciamo, quando uccidiamo gli zombie al primo colpo, con un colpo in testa, perfetto, quando uccidevamo gli zombie, lo so che non si dice così, ma noi dicevamo one shit, one shot, perché ci faceva ridere, diciamo, la suonanza, il suono della parola, one shit, one shot, ecco, quei momenti mi mancano tanto, tanto Andri non li vedi i miei video, però sappi Andri che mi mancano quei momenti, solo che, vabbè, non posso raccontarvi i cavoli suoi, però non li funziona i computer per fare i videogiochi, e quindi niente, e quindi niente, anche a me in realtà servirebbe un computer nuovo, ma, dettagli, più avanti, quando mi riferisco, me lo prenderò, adesso diciamo che ho priorità per altre cose, che però non vi racconto, perché ho già detto troppo, anche nelle live, e quindi evito, evito, perché pescherò manzia mio, ecco, tutto qua, quando sarà il momento, vi farò il vlog, vi farò vedere tante cose belle, vi mostrerò cosa sto combinando, e, ma adesso, adesso, bisogna lavorare in silenzio, bisogna lavorarci su, tanto, studiare, così da quell'altro, ma, poi, vedrete che, anche voi, avrete a sapere, e vi vincerà, sicuramente, qualche fan, già lo so, qualche creatura, già lo sa, perché sono i raccomandati, quelli che, magari, mi scrivono in privato, di più, ci sentiamo, so che posso fidarmi, e quindi, mi sono fidata, gli altri sapranno più avanti, insomma, sapete che, ci si crea sempre dei legami maggiori, con qualcuno, e con qualcun altro meno, ma non perché, non vi voglio bene, ma perché, umanamente succede così, comunque lo sapete, insomma, questo spugno fa dei suoni troppo belli, io, mi sono proprio innamorata, di questo suono, così, rilassante, vabbè, insomma, off topic, non c'è un topic, non c'è un, quindi posso saltare di quella, e lo sai, probabilmente ti sarai già annoiata, perché, passo da un discorso all'altro, senso ha senso, per me ce l'ha senso, prova, la mia testa è così, è benvenuta dentro il mio cervello, funziona così, allora, volevo dire, questo gioco, molto bello, ha un sacco di personaggi, bla bla bla, non dico altro, perché se no, dopo sembrava un placement, ma nessuno mi ha parlato per dirlo, semplicemente, mi piace questo gioco, mi piace molto, è anti stress, perché, bisogna spaccare tutto, cioè, è proprio, bello, mi piace spaccare tutto, è molto rilassante, ci sono, tipo, c'è la squadra avversaria, c'è la tua squadra, abbiamo cinque giocatori, per ogni squadra, giusti, in modo molto, molto easy, e, e niente, bisogna buttare giù, le torrette, e il nucleo centrale, dell'altra squadra, che è una torre, di solito, a forma di drago, easy, e, quindi, bisogna difendere, il proprio, territorio, uccidendo, mi piace, perché, poi, ci sono tutte mappe diverse, bisogna ammazzarci, tra di noi, e, e buttare giù, le torri, che sparano, degli avversari, basta, fine, è easy, ogni, ogni volta, è sempre così, solo che, cosa cambia, cambiano, vabbè, i personaggi, che hanno, abilità diverse, e, quindi, e, quindi, ogni volta, è bello, perché, puoi cambiare personaggio, ce ne sono tantissimi, però, quelli gratuiti, ogni tot, cambiano, quindi, prendi la mano con alcuni, e dopo te li cambiano, se no, vincendo le monete, puoi comprarli, e quelli sono fissi, puoi comprarli, con i soldi veri, ma anche no, oppure, appunto, ogni volta, che vinci, o fai delle missioni, ti danno, vinci, delle monete, e dopo lì, io ho usato quelle, mi sono presa, Deathwing, scusa, che è, tipo, il più cazzuto di tutti, secondo me, poi, secondo altri, no, giustamente, non hanno proprio i gusti, a me piace tantissimo, perché è un drago, io adoro i draghi, è anche il mio segno, so di accale cinese, tra l'altro, quindi, sono io, praticamente, perché io, se potessi avere qualsiasi cosa nella vita, vorrei le ali, mi piacciono quelli da drago, e, quindi, io adoro i draghi, proprio per questo, perché possono volare, con quelle ali, fichissime, e con l'olipo, e spara anche fuoco, quindi, fa un casino, fa un macello, mi piace tantissimo, tra l'altro, quando ero piccola, uno dei miei film preferiti, era Dragon Earth, ed era proprio, oh mio Dio, io l'adoravo, quel film bellissimo, anche le musiche, va beh, insomma, quindi, sono un po' fissata con i draghi, ecco, diciamo, perché mi piacciono, però, ci sono tanti altri personaggi, molto belli, e, i suoi classici, tipi, no, quelli, tipo, gli assassini a distanza, i personaggi, quelli che vanno, guerrieri, che vanno nella mischia, e, il guaritore, insomma, hai capito, di che gioco stiamo parlando, cioè, che tipologia di gioco è, pensavo che non mi sarebbe piaciuto, fare il guaritore, invece mi piace, dipende dal personaggio, che scelgo, se mi trovo bene, verrà molto bello, anche fare il guaritore, perché pensavo, il guaritore deve star lì a pensare, a guarire gli altri, non si gode il gioco, invece si riesce, è bello star lì, e curare, non lo so, mi piace, ho cambiato, si vede un po', personalità, perché, tanto tempo fa, non avrei, non mi sarebbe piaciuto fare il guaritore, mi sarebbe, mi sarei annoiata, invece adesso mi piace, quindi, penso di aver cambiato personalità, perché una volta facevo sempre, solo il mago, non morto, e, tipo, che me ne stavo indietro, a sparare colpi, e fare robe, invece adesso, totalmente il contrario, mi piace, tuffarmi in mezzo, alla mischia, e spaccare tutto, quindi penso di aver cambiato un po', il mio carattere, non lo so, cosa sia, però, non avrei mai, non mi sarei, neanche in un videogioco, proprio sto dicendo dei videogiochi, non mi sarei mai buttata nella mischia, a costo di, di morire, spaccando tutto, cioè, anche nei videogiochi, una volta restavo ben dietro, invece adesso, proprio, wow, mi piace, mi sorprende questo di me, e mi piace anche, perché adesso, mi diverto molto di più, mi butto, e faccio, una volta anche, preferivo guardare gli altri giocare, e non partecipare, invece adesso, sono io che ho raggiunto, dai tutti a giocare con me, cioè, mi piace un sacco, ma una volta proprio, non so se ero timidezza, però, mi piaceva guardare gli altri, non fare, mi divertivo così, che stupida, no, dai, sono gusti, diciamo, non lo so, da cosa dipende, però, mi piace adesso, il gruppo di amici, che ci ha creato, che nessuno giudica, nessuno, anche se, non sei bravo, adesso sono diventata brava, quindi nessuno può dire niente, bravina, dai, non brava, bravina, bravina, ne ho distratto da fare, però, cioè, è importante per me, quando, nessuno ti giudica, che ti, sbagli, vabbè, tutti possono sbagliare, cioè, perché ci sono a volte delle persone, che, sono arroganti, si credono chissà chi, che ti giudicano, e poi magari loro, fanno peggio di te, però tu non puoi dire niente, perché loro sono sempre, no, no, quelli non sono amici, praticamente, di sto, video, potevo scrivere come, potevo parlare solo del gioco, a questo punto, e scrivo, vi racconto un gioco, perché, volevo parlare di tante cose, poi alla fine, do parlare solo di quello, vabbè, dai, fai niente, comunque, mi piace tanto, cosa vuoi che ti dica, creatura, a me piace, per adesso, mi piace quello, mi sfogo, i momenti di pause, mi sbutto giù qualche torretta, ammazzo qualcuno, così, ovviamente, virtualmente, poi mi piace di questo gioco, anche, che, tu, se muori, poi ritorni in vita, lì nel gioco, cioè, quindi hai vite, infinite, ecco, e quindi, io per fortuna, perché, le prime volte, mi buttavo nella mischia, morivo subito, ecco, adesso, cioè, per me sarebbe finito, subito il gioco, invece no, devi aspettare qualche secondo, a volte, 20 secondi, a volte, molto di più, e lì, è un po' una rottura, perché, vedi altri giocare, dai, dai, quindi, io cerco sempre, di morire, il meno possibile, però, le prime volte, che mi lanciavo, nella mischia, senza, divertire parte, così, a random, ma, ma, facciamo tutto, e, i miei amici, sta indietro, sta indietro, io, non mi importa, se muoio, però, dopo, mi annoio, aspettare, di tornare in vita, quindi, adesso, lo faccio in modo, un po' più ninja, mi butto, però, poi, quando capisco, meglio, se torno indietro, se no, ci lascio, la bella, la bellaccia, allora, torno indietro, e non voglio, a volte, fatemi sapere, se volete, che vi racconto qualcosa, in un prossimo video, se ti piace, che faccio, questi video, chiacchiericci, o li faccio volentieri, il venerdì, è il mio giorno libero, quindi, al mattino, posso farli, e, non sono tanto complessi, devo solo parlare, però, qualcuno mi aveva chiesto, se facevo, vai, mi piacerebbe, sarebbe una bella idea, se tu parlassi, e mi ha messo tutto l'elenco, delle cose, che io ho sempre detto, di cui non voglio parlare, quindi, se non le ho fatti, perché non voglio parlare, non voglio parlare, di quegli argomenti, è ovvio, che, se anche me li richiedi, io non parlerò, perché ho sempre detto, che non voglio farlo, di caro, religione, e, e altre cose, adesso non mi ricordo, ma, principalmente, politica, religione, non voglio parlarne, perché, appunto, ci sarebbero, talmente, troppe cose da dire, e, ho visto, che, chi ci ha provato, è stato sempre frainteso, allora, siccome, io non ho nessuna intenzione, di dedicare, o di far pensare, di che io sia una cosa, piuttosto che un'altra, me ne sto zitta, me ne sto zitta, e sono a posto, e mi dà fastidio, perché su internet, come dici una cosa, c'è sempre qualcuno pronto, a ricirarti la storia, facendoti sembrare, satana, tipo, quello sfigato di satana, tra l'altro, vabbè, ecco, solo per aver fatto questa battuta, chissà quanti dislike, o chissà quante persone, si discriveranno, da me, per esempio, ecco, non si può mai fare battute cose, perché la gente si offende, però, se adesso, iniziassi, per esempio, dire, eh, però lo sapete, che chi è, chi crede in satana, crede anche in Dio, e quindi, se sei satanista, sei anche cristiano, di conseguenza, bla bla bla, e quante cose potrei dire, troppe, poi quanta gente si offenderebbe, però, satanismo non è solo quello, bla bla bla, cioè, io sono pagana, così, me ne sto al di fuori, da tutte queste cose, leggermente anticristiana, ma vedi, vedi, non si può dire, non si può dire questo, nei video, mi dissocio, non comunque, a parte gli scherzi, io, vorrei fare anche dei podcast, dove racconto cose, però, appunto, sono tutte cose, che, ci dobbiamo, vedo, devo vedere prima, cosa posso, e cosa non posso dire, perché non voglio, ricevere denunce, o cose varie, perché io ne avrei, da dire di cose, di tutto per tutti, e non voglio raccontare, gli affari degli altri, mi piacerebbe parlare, di opinioni, personali, tipo, questa tizia, senza far nomi, anche se mi hanno detto, che i nickname, si possono usare, perché non sono, veri nomi, e quindi, legalmente, si può, però non lo so, magari farvi capire, questa persona, che ha fatto così, io mi dissocio, da, io non, penso che questa persona, ha fatto così, per me non è una cosa giusta, da fare, bla bla bla, questa teoria, posso dirlo, ne avrei tanto, ne avrei tante, da dire, personaggi di youtube, principalmente, personaggi su instagram, personaggi, su tiktok, ne avrei tanti, capito, però evito, evito, perché, volevo tenere, questo canale pulito, senza, certi argomenti, però, nessuno mi vieta, di spostarmi, su un'altra piattaforma, a fare queste cose, però, adesso, non vi dico altro, perché, è un'idea così, e volevo anche, farla insieme a due miei amici, se qualcuno, anche vuole, inserirsi, potrei, invitare, personaggi, tipo, il ragazzo Mannaro, che anche lui, ne ha sempre da dire, e altre persone, ospiti, speciali, a sorpresa, però, questa è un'altra cosa, è un'idea mia, che non so, se farò mai, devo prendere, tra virgolette, coraggio, vedere, insomma, inizierò a fregarmene un po', però, adesso, non è il periodo, questo periodo, è il mio di studio, e basta, io ho bisogno, dei miei periodi, per fare qualsiasi cosa, e tu lo sai, e, e niente, basta, mi fermo qua, parlando anche troppo, e, e niente, fammi sapere, tanto ti sarei già addormentato, avrei chiuso, o non avrei capito nulla, dimmi, scusi, non importa, quando andrai di te, dirò, ma che cacchio ho detto, o l'ultima cosa, guarda, The Voices, bellissimo, mi è piaciuto un sacco, è tipo, commedia horror, drama, c'è sto tizio, che parla col gatto, già, adoro, parla col gatto, ma il gatto gli risponde, cioè, lui sente la risposta, e ho detto, ma, ma sono io, solo che, parla anche col cane, e il cane ha tipo, la voce un po', questo, il pezzaglio, ed è tipo, come se avesse, l'angio letto buono, l'angio letto cattivo, però sono uno il cane, uno il gatto, e il cane è quello che dice, fai bravo, tu sei bravo, comportati bene, beh beh beh, il gatto invece è stronzissimo, e gli dice tipo, uccidi questo, uccidi quell'altro, è Sam, è Sam, quindi io avevo tipo detto, che se fosse successo qualcosa ai vicini, e fosse colpa mia, io avevo detto, a me l'ha detto il gatto, tipo, tipo, quasi subdubile, così, non succederà nulla, a parte che devo andare a denunciare, ma, per il resto, due, se volete sapere, le mie vicende, i tuoi vicini, vicende, i vicini, fatemi sapere nei commenti, e farò un video a parte, questo posso dirlo, perché non farò nomi, racconterò solo le cose come stanno, e vi chiederò anche i consigli, se volete, grazie per aver visto questo video, scusa se parlo velocemente, ma ho troppe cose da dire, e poi io sono così, proverò, lanciami una sfida, e proverò a fare un video, dove parlo lentamente, ma non ce la faccio, perché io parlo così normalmente, quindi è difficile per me, parlare lentamente, devo impegnarmi davvero tantissimo, per farlo, sono messa così, io ti auguro buonanotte, buon relax, ciao creatora,